amici di battista 70 phone oggi il nostro lucio ci farà vedere come funziona l'applicatore perfetto di cellular line utile a mettere le pellicole senza senza creare bolle e senza evitare di buttarne via una miriade come spesso succede a molti di noi ok vediamo come funziona stiamo ora preparando l'attrezzo abbiamo tolto la prima pellicola la seconda va ad aderire direttamente sul nostro iphone dopodiché ok facciamo aderire perfettamente ok ora andiamo a togliere l'applicatore come vedete la pellicola è rimasta ora andiamo a togliere quelle poche bolle che sono rimaste sulla pellicola che comunque dovrebbero venire via già togliendo la parte superiore come vedete lucio con molta maestria avendo applicato siano 15 20 mila pellicole nella sua carriera forse anche qualcuna in più ok finiamo di lavorare di fino ok ora andiamo a togliere la parte superiore et voilà la pellicola è perfettamente applicata come potete notare anzi cerchiamo di avvicinarci il più possibile non si nota neanche la pellicola ma è praticamente perfetto ok ringraziamo cellular line per averci fornito l'attrezzo da provare e ringraziamo lucio per la maestria io non mi ci metterei neanche tanto lo faccio fare sempre a lui comunque con questo applicatore forse riuscirei persino io con questo concluso un saluto da loris e da lucio per battista 70 phone ciao